Benvenuti in questa puntata speciale di Diva Podcast perché c'è una novità che vi devo comunicare e lo farò dopo la sigla. Vai con la sigla. Eccoci qui. Allora, adesso vi spiego un attimo la situazione. Io per oggi avevo girato un altro video. Avevo girato un video che quindi vedrete nei prossimi giorni in cui vi racconto la mirabolante esperienza nel mondo del cinema di Mirko Zeppellini. Perché in questi giorni mi sono un po' appassionata a questa, insomma, sua esperienza cinematografica con tanto di colossal mai esistiti e quant'altro. Ma appunto tutte queste cose ve le racconto in quel video che sarebbe dovuto andare online oggi. Però subito dopo aver girato questa puntata è uscita una news. Una news pazzesca. E quindi ho detto no, aspetta, devo parlarne di questa news, insomma, all'interno del mio podcast. E quindi sto girando questa puntata che è molto più urgente, tra virgolette, in quanto appunto ho avuto la conferma, dato che nello scorso video abbiamo trattato tutte le varie bugie di Bugalalla, tra cui anche il fatto che avesse detto di non vivere, di non aver mai abitato in quella casa che era stata scoperta dalle Iene. Oggi posso darvi la conferma che è vero che non abita in quella casa. È vero! È la verità! In quanto quella casa è stata messa in vendita! La notizia in questo momento è fresca, fresca, fresca. Quindi se per caso io dovessi dire qualche informazione scorretta, poi ve la andrò a smentire naturalmente, perché è proprio news freschissima di ora. Quindi, questa casa è stata messa in vendita, quindi è vero che attualmente non ci vive più, ragazzi. Non ci vive più. Quindi, questa insomma è una verità. In questo momento non ci vive più, ma questa foto di questa casa ci dà conferma che però, fino a pochi giorni fa, in questa casa ci ha vissuto. E cosa ce lo conferma? Ce lo conferma il fatto che nelle foto di questa casa, all'interno ci siano due elementi riconoscitivi, ovvero il suo cappotto rosso, regia, fai lo screen del cappotto rosso, e il suo gatto. Quindi, ragazzi, ho fatto una bellissima storia su IG, tra l'altro seguitemi su IG anche per partecipare a questi belli indovinelli. Ho messo la storia con scritto Trova il gatto, no? Sapete, tipo i quiz, Trova il gatto. Ecco, trova il gatto. Facciamo vedere qui, regia. Metti qua la foto ingrandita del gatto. Questo è il famigerato gatto Mao. E qui c'è tutta una storia sul gatto Mao, ragazzi. Perché? Allora, vi spiego, vi spiego. Io non ho mai trattato il gatto Mao, nonostante tantissimi di voi, anche nel gruppo Fermiamo i Truffatori M Team, mi avete detto, parla del gatto Mao. Il gatto Mao è l'ennesima bugia. Il gatto Mao, di qua il gatto Mao. Io sinceramente non ho mai dato importanza al gatto Mao. Ho pensato, io non parlerò del gatto Mao, perché comunque nel mio podcast parlo di argomentazioni, diciamo, serie. Cosa me ne frega del gatto Mao? Cosa può mai provare il gatto Mao? Il gatto Mao, con tutto rispetto per i gatti, naturalmente, che li amo follemente, però, all'interno di questa circostanza, diciamo che il gatto Mao mi sembrava superfluo. E ho pensato, io parlerò del gatto Mao solo quando il gatto Mao sarà in grado di provare qualcosa. E infatti il gatto Mao sta provando, vedete, in questa foto prova che lei ci abbia vissuto. Altrimenti, che cosa ci fa il suo gatto nella foto della sua casa messa in vendita? Puntone di domanda. Che cosa ci fa? Niente, cioè, è lì così, insomma. Per fare il modello, no, naturalmente lei in quella casa ci viveva e questa è l'ennesima prova, oltre al fatto che comunque era già stato provato, perché le Iene avevano chiesto ai vicini, c'era già comunque il suo cappotto, le foto, insomma, degli interni della casa che corrispondono agli sfondi dei suoi video e foto. Quindi, insomma, questa cosa qui era già provata, ragazzi. Era già provata. Per cui, pochi cazzi nel senso, adesso voglio vedere anche davanti a questa prova che cosa diranno le persone che ancora credono a Bugalalla. Nel senso, ragazzi, qui ci sta le foto della sua casa con il gatto dentro e quindi per forza quel gatto viveva con lei, no? E quindi viveva nella casa con lei. Per cui, c'è poco da... Poche scuse, poche palle. Comunque, andiamo a vedere la casa. Loro l'hanno messa in vendita. Fammi pensare a 285 dollari. Vabbè. Single family, eh? Vabbè. Bagni uno. Bedrooms 5. Days on market. Days on market. Deduco che significhi da quanti giorni è in vendita la casa, credo. C'è scritto uno, quindi da un giorno. Oggi è martedì. Quindi facciamo che sia stata messa in vendita, quindi ieri. Per cui lunedì 15. Lunedì 15 maggio, insomma, questa casa sarebbe stata messa in vendita. E quindi vi voglio invitare a ragionare sul fatto che essendoci il gatto dentro le foto della casa ed essendo che il gatto era con lei nelle live, quindi era in casa con lei, questo prova che lei, fino a pochi giorni fa, viveva lì, nonostante abbia detto in più occasioni che non era vero, che lei non viveva davvero lì, che la casa l'aveva acquistata per un investimento ma non ci viveva. Questa era la versione di Bugalalla, quindi, insomma, adesso abbiamo le prove ulteriori come se ne servissero altre, non so veramente che altro vi possa servire, però abbiamo le prove ulteriori che invece lei, quella casa, ci abitava. E soprattutto veniamo a conoscenza anche di un altro fatto, che lei si è spostata in un'altra abitazione, quindi naturalmente se la casa è in vendita lei non abita più in quella casa. Qualcuno si chiede, ma quindi si è portata dietro il gatto, non se l'è portato dietro? Ragazzi, chi se ne frega se si è portata o meno dietro il gatto. Lei diceva che il gatto era dei vicini, quindi non so, magari l'ha lasciato i vicini o se l'ha portato dietro, non lo so. Non ci interessa per il momento che fine abbia fatto il gatto. Speriamo che non se lo sia mangiato Zeppellini. Non so, comunque, nella sua follia mentale, non so. Vabbè, magari stufo del McDonald's. Vabbè, comunque, parlando di cose invece molto serie, il fatto che questa casa sia stata messa in vendita dovrebbe, ai più scettici, cioè scettici intendo, che ancora credono alle fandonie di Bugalalla, dovrebbe far capire che qualcosa non va. Cioè, questa è comunque un'altra prova che c'è di mezzo, qualcosa di losco, no? Perché altrimenti non mettevano in vendita la casa nel momento stesso in cui quella casa era stata sgamata, diciamo così, no? E adesso immagino già, anzi, adesso sono già passati due giorni da questa scoperta, quindi posso già immaginare quello che sarà stato detto da Bugalalla, probabilmente avrà detto che lei è andata in America per investire nel mercato immobiliare americano. E quindi questa casa è stata messa in vendita, semplicemente perché era stato fatto questo investimento. E quindi che cosa c'è di strano? Beh, ovviamente la cosa strana è che sia stata messa in vendita proprio dopo che loro sono stati sgamati lì a viverci. Quindi, e vi faccio notare che questo fatto prova alla grande, naturalmente, che sotto sotto, anzi, neanche troppo sotto, ci siano, insomma, degli affari loschi da parte loro, ovviamente. Cioè, sono due persone che stanno letteralmente scappando. stanno scappando, perché ovviamente adesso, cioè, si è venuto a sapere l'indirizzo di quella casa e chiaramente sono state avvisate anche le autorità americane, perché mi ricordo che la REI, la giornalista delle Iene, prima di tornare in Italia, aveva avvisato, insomma, la polizia locale della presenza di queste due persone, elencando, insomma, tutte le varie motivazioni e il fatto che si trattasse di persone non proprio raccomandabili. E guarda caso, loro hanno cambiato casa, ragazzi. Cioè, questo mi sembra piuttosto evidente, piuttosto palese, ma poi ci sono tante altre cose che voi ancora non sapete, perché chiaramente io non posso raccontarvi proprio tutto quello che so al 100%, perché alcune cose magari riguardano, insomma, altre persone e quindi chiaramente non posso io parlare per gli altri, ok? Però aspetto insieme a voi che tutte queste varie cose escano fuori e vi posso assicurare che quello che c'è sotto è veramente, veramente inquietante, cioè, nel senso, veramente grave. Cioè, truffe su truffe su truffe. Quindi, ragazzi, chi ancora oggi crede a Bugalalla veramente ha dei seri problemi. Però io non mi stupisco più di niente, perché purtroppo mi rendo conto che il comprendonio della maggior parte delle persone è piuttosto limitato. Cioè, mi riferisco già proprio in generale, cioè, mi rendo proprio conto, stando sui social, mai come oggi. Sembrava quasi addirittura che l'idiozia dell'umanità stia peggiorando nel corso degli anni, perché non mi ricordo che ci fossero così tanti idioti quando mi ero iscritta a YouTube. Mentre adesso, invece, noto che sui vari social, TikTok, Instagram, cioè, la gente è proprio incapace di capire quello che viene detto. Nel senso che, se io esprimo un concetto chiaro, su dieci persone, magari in cinque lo capiscono, ma in altri cinque, cioè, proprio travisano completamente le parole. Cioè, purtroppo le persone non hanno il sale in zucca, cioè, non hanno la materia grigia per poter comprendere. Cioè, sono proprio idrocefali. E quindi questo fa sì che sia veramente difficile ed estenuante e stressante, se vogliamo, cercare di far capire le cose. Ovviamente poi quelli intelligenti capiscono e quelli più zucche vuote, ovviamente, non capiscono. Cioè, quindi, purtroppo, quello c'è poco da fare, ragazzi. Sarebbe bello vivere in un mondo di persone intellettualmente dotate, ma anche solo nella media. E invece, purtroppo, vi giuro che mai come in questi casi io mi rendo conto di quanto sia rimbecillita l'umanità. Per concludere questa puntata, edizione speciale news di Diva Podcast, voglio solo fare un appunto sui documenti che sono stati mostrati da Bugalalla nella sua live, insomma, no? Sono stati mostrati questi documenti, anche mostrati in mano. E io non conosco queste tipologie di documenti, ovviamente non essendo esperta, chiaramente, di documentazione americana. Io ho appena visto adesso la live, quindi non sono in grado, in questo momento, di dire qualcosa in più riguardo a questo. Quindi, eventualmente, lo faremo nelle prossime puntate. ma spero e credo di non doverlo fare, nel senso che, vabbè, chiaramente, i documenti relativi all'asilo politico, lei ha mostrato semplicemente dei moduli, dei moduli richiesta, che sono tranquillamente scaricabili da Google. Quindi non ha provato in questa live assolutamente niente. i documenti che ha fatto vedere in mano sono, credo, da quello che ho visto così, comunque dei permessi lavorativi, qualcosa del genere. Però, ripeto, io non sono esperta, quindi lascio che su questo si esprimano, chiaramente, gli avvocati, ora come ora, ad oggi. Non vi so dire di più. Però, una cosa ve la voglio dire. Lei, ad un certo punto di quella live, dice chiaramente queste parole, ovvero questi documenti sono stati ottenuti grazie al lavoro di M. Team. e praticamente dicendo questa frase si frega da sola perché noi sappiamo tutti che M. Team Mirko Zeppellini è un truffatore. Cioè, di questo, credo che non ci siano più dubbi in merito sul fatto che Mirko Zeppellini sia un truffatore. Quindi, se lei questi documenti li avesse ottenuti da sola con le sue forze regolarmente, sarebbe stato un conto come qualsiasi persona che va negli Stati Uniti dovrà fare un procedimento per ottenere certi documenti. Non è che c'è bisogno di M. Team o di qualcun altro per ottenere dei documenti. Se tu sei regolare, i documenti naturalmente li ottieni. Ma lei non dice questo. Lei si frega dicendo questi documenti sono stati ottenuti grazie al lavoro eccelso di M. Team. e quindi praticamente in questo modo confessa che questi documenti siano stati procurati e barra o fabbricati da Mirko Zeppellini. Ho detto e barra o perché non sappiamo se Zeppellini li ha proprio fabbricati con i suoi mezzi oppure li abbia acquistati da siti illegali o quant'altro. questo non lo sappiamo però lui sta in America da ben dieci anni e passa e quindi sapete questi documenti su se stesso. Quanti ne avrà prodotti documenti falsi di questo tipo acquistati come abbiamo visto nel video precedente acquistare una patente fasulla è facilissimo ci sono dei siti che le vendono quindi questi documenti che lei ha pubblicato ha mostrato vorrei poter dire che non provano nulla ma in realtà stanno solo provando che non sono documenti leciti proprio per la frase che lei ha detto questi documenti sono stati ottenuti da M-Team non da se stessa perché se io vado in America ripeto non ho bisogno di M-Team che mi fa avere i documenti mi basta semplicemente essere regolare e fare le procedure e questi documenti arriveranno quindi non c'è bisogno di un team di esperti ecco questo è chiaro il team di esperti casomai serve se servono dei documenti falsi da fare semplicemente vedere il live quindi ragazzi non credete ovviamente a queste cose non fatevi imbambolare da queste cose stiamo parlando di truffatori quindi attenzione ma soprattutto non affidatevi mai ad M-Team questo deve essere molto chiaro poi per chi si chiede perché ho letto commenti del genere ma se lei è in America da un anno e mezzo e non l'hanno ancora arrestata vuol dire che non è illegale no ragazzi io ho una conoscente che è stata per dieci anni e più forse quindici anni illegale in America e in più lavorava anche in nero illegalmente quindi non le hanno mai fatto niente non è mai stata arrestata e cose varie perché chiaramente non è non c'è non è che sono così fiscali diciamo che chiudono un occhio sugli immigrati quindi non è che ovvio questo non è un invito ad andare in America a fare gli immigrati illegalmente però non succede nulla cioè nel senso quindi non è vero che se una persona sta lì un anno e mezzo vuol dire che è legale assolutamente no lo sanno che ci sono gli immigrati negli Stati Uniti e chiudono un po' l'occhio un po' come anche da noi alla fine e quindi niente spero vi sia piaciuta questa puntata un po' special del podcast con le ultime news e noi ci vediamo alla prossima un po' speciale